La mia madre è un'ottima cuoca, molto esigente, quindi io ero molto curioso di vedere, insomma, quei piccoli segreti. Decidì che voleva essere cuciniera a 14 anni, io già lo tenia clarissimo. Io sopra la mia cucina, con dei plats colorati, con molto gusto e molto exotismo. Il nostro canale è un'isola di pace. Munchen non è la stessa che il bianco. Da un punto di vista di un'ottima cuore, ci sono molti diversi tipi di cucina. Puoi essere influenzato da e prendere inspirazione da. E' un'ottima cuore, non è un'ottima cuore. Oggi, per Germania, mi piace, un'ottima cuore. E' un'ottima cuore, non è un'ottima cuore. Devevo fare un'ottima cuore con carpaccio, con qualche pomidoro. Il manifesto è una strana, è la tipicità e la tradizione. Di tutto, il santo è un'ottima cuore. E un'ottima cuore. orgulloso di questo piatto. Buon appetito! Buon appetito! Grazie! Buon appetito! Buon appetito!